Il 20 febbraio del 1987 moltissime persone in Italia accendono la tv e si sintonizzano su quello che allora si chiamava Rete 2, il secondo canale dei programmi della Rai. C'è in onda un programma popolarissimo che si chiama Portobello. Lo studio è molto colorato, pieno di oggetti curiosi e anche il pubblico in sala è molto colorato, come era normale negli anni Ottanta. A un certo punto, dopo la sigla, entra in scena il presentatore. Il pubblico applaude, come fa sempre in queste occasioni, ma l'applauso stavolta è particolarmente caloroso. Alcune persone si alzano in piedi. Il conduttore è un uomo anziano, vestito di grigio, con i capelli grigi e la faccia tranquilla. Per gli standard di oggi, sembra poco televisivo. Una telecamera lo inquadra in faccia e lui inizia a parlare. La sua prima frase non è tipica. Non dice, signore e signori, benvenuti. O nemmeno un semplice buonasera. Dice, allora, dove eravamo rimasti? È la frase tipica che in italiano usiamo per ricominciare una conversazione dopo che per qualche motivo è stata interrotta. Il pubblico in sala e a casa ha capito subito di cosa parlava il presentatore. Era stato assente dalla tv per tre anni e mezzo. Non per sua volontà. Nemmeno per una malattia o per un cambiamento improvviso di scelte lavorative. Era stato assente perché era in carcere. I carabinieri lo avevano arrestato quattro anni e mezzo prima con l'accusa di fare parte della Camorra, la criminalità organizzata della Campania. Era stato in carcere per sette mesi e poi aveva passato altri tre anni nei tribunali. Forse state pensando, ma perché un uomo accusato di essere praticamente un mafioso può tornare a lavorare nella tv pubblica italiana e il pubblico lo saluta come se fosse un eroe? Perché quell'uomo serio e grigio era completamente innocente. Era andato in carcere per errore e aveva passato anni da incubo senza motivo. Questo è l'episodio numero 166 di Salvatore Racconta, il podcast che ogni sabato ti racconta una storia italiana parlando lentamente, usando parole semplici e frasi chiare, scritto e prodotto apposta per persone che non sono madrelingua italiane, ma che studiano o parlano questa lingua per passione, per lavoro o per amore. Io sono Salvatore, insegno italiano e amo raccontare storie. Se questo podcast ti piace, lo puoi sostenere con un contributo mensile su Patreon. Iscriversi è semplice, costa quanto una pizza e puoi cancellarti quando vuoi. Se cerchi lezioni o conversazioni in italiano online, scrivimi all'indirizzo che trovi in descrizione. Oggi ti racconto la storia di un uomo accusato per errore, che ha lottato per la propria reputazione e per la propria vita, ma anche per le tante altre persone come lui finite in prigione, anche se non avevano fatto niente. Ti parlo di Enzo Tortora, una vittima di mala giustizia. Ciao, stai ascoltando Salvatore racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com slash Salvatore racconta. Ma per il momento, buon ascolto! Nato nel 1929 a Genova da una famiglia di origini napoletane, Enzo Tortora da subito sembra tagliato per lavorare nel mondo dello spettacolo. Durante e dopo l'università, fa teatro, suona la batteria, scrive canzoni, spettacoli. A un certo punto, quando è ancora molto giovane, fa il concorso pubblico per entrare alla RAI. Lo vince e inizia così la fase più splendente della sua carriera. Comincia come assistente e autore di programmi, ma poi capiscono che tra le sue qualità c'è una grande brillantezza e capacità di stare di fronte alle telecamere. Così diventa presto un presentatore. Conduce soprattutto giochi televisivi. È una delle prime edizioni in tv del Festival di Sanremo. Bisogna dire che è ancora la fine degli anni 50. Le famiglie che hanno una tv non sono moltissime e il segnale non arriva in tutta Italia. Ma comunque, per Enzo Tortora, sono primi passi molto importanti. Il successo vero arriva negli anni 60, quando partecipa al leggendario Carosello. Oggi sembra assurdo da dire, ma Carosello era un popolarissimo programma di pubblicità. Eh sì, oggi la pubblicità ci esce dalle orecchie e ne faremmo a meno volentieri. Ma in quel periodo era ancora una novità. Era artistica e ricercata. Dentro Carosello, Enzo Tortora presentava una specie di quiz chiamato Adamo contro Eva. A ogni puntata, un uomo e una donna discutevano di temi di società su cui uomini e donne avevano opinioni diverse. Per esempio, marito e moglie devono passare il tempo libero assieme o è giusto avere passatempi separati? Lo sponsor di questo microprogramma era un dentifricio all'epoca molto popolare e che esiste ancora oggi. Negli anni Sessanta, Tortora fa il salto di qualità, diventa il conduttore della Domenica Sportiva, un programma molto popolare della Rai che andava in onda la Domenica per mostrare i gol delle partite di calcio di quella settimana e commentare con vari ospiti i risultati. Uno potrebbe pensare che in Italia è facile avere successo parlando di calcio. Sicuramente è vero che uno sport così popolare attira l'attenzione praticamente in automatico, ma Tortora è bravo a fare un programma dinamico, divertente e intrattenente, non solo calcio ma anche spettacolo e il successo è molto grande. Enzo Tortora in quegli anni è a tutti gli effetti un uomo della Rai, nel senso che è molto facile identificare la sua faccia con la tv pubblica. Allo stesso tempo però è molto sincero, non le manda a dire. Una volta critica apertamente la Rai in un'intervista, risultato lo licenziano. Lui però non si dispera, anzi si rimbocca le maniche e apre un capitolo nuovo della sua carriera. Lavora per i giornali, per la radio, poi addirittura fonda lui stesso una tv. Si tratta solo di una piccola emittente locale, ma comunque è un grande passo ed è la dimostrazione che Enzo Tortora non sta mai con le mani in mano, Rai o non Rai. Quando negli anni settanta la tv pubblica viene riformata, Enzo Tortora torna in tv. Scrive un programma di cui poi diventa anche conduttore. Lo chiama Portobello, come il famoso mercatino di Londra, dove è possibile comprare gli oggetti più disparati. E l'idea del programma è quella di imitare l'atmosfera di un mercato in tv. Un posto dove vendere oggetti strani, cercare pezzi misteriosi, magari presentare le proprie invenzioni. Il tutto con leggerezza, simpatia e un talento purissimo per l'intrattenimento. Portobello comincia le trasmissioni nel 1977 e si interrompe bruscamente nel 1983. Il 17 giugno di quell'anno i carabinieri arrivano negli studi televisivi e arrestano Enzo Tortora. L'accusa è gravissima, collaborazione con la camorra. Ma da dove è venuta fuori questa storia? Alcuni camorristi veri avevano dichiarato alla polizia durante l'interrogatorio che avevano visto Enzo Tortora vendere droga negli studi televisivi. Ma si può credere alla testimonianza di criminali così cinici? Beh, il problema è che non è uno solo a dichiararlo, ma sono quasi una ventina. Inoltre, a casa di uno di loro trovano una rubrica telefonica. C'è un numero e accanto un cognome scritto a matita. Non si legge benissimo, ma sembra proprio che ci sia scritto Tortora. I giornali e le tv danno subito la notizia, perché è clamorosa. Enzo Tortora, il famosissimo conduttore di un programma così popolare, è un camorrista? Pubblicano le sue foto con le manette, accompagnato dai carabinieri. Scrivono articoli su di lui. Commentano in modo netto. Per qualcuno è sicuramente colpevole, già prima del processo. Qualcun altro, per la verità, prova a difenderlo. Ci sono giornalisti, altre persone che fanno televisione e anche uno degli uomini politici più popolari di quel periodo. Si chiama Marco Pannella ed è il segretario del Partito Radicale. Una formazione politica molto particolare. favorevole alla legalizzazione della droga e della prostituzione, favorevole al divorzio e all'aborto, anticlericale, antistatalista, contrario al carcere e molto, molto attento ai casi di mala giustizia. Pannella si convince che Enzo Tortora è innocente. Egli offre il suo appoggio pubblico. Il dibattito nel frattempo è caotico. Qualcuno difende Enzo Tortora dicendo che non è possibile che sia un camorrista. Altri rispondono che non è giusto difendere una persona famosa solo perché è famosa. Se ha sbagliato, deve pagare. Nel frattempo Tortora è in carcere, in attesa del processo. Ci resta per sette mesi, durante i quali il Partito Radicale gli offre la candidatura al Parlamento Europeo. Grazie alla sua popolarità, Tortora alle elezioni, prende quasi mezzo milione di voti e diventa europarlamentare. Non rinuncia al processo, però. Vuole andare davanti al giudice e dimostrare la sua innocenza. Dopo il processo di primo grado ci sono molte testimonianze contro di lui. Il giudice lo condanna a dieci anni di carcere. L'incubo continua, ma Enzo Tortora va avanti con la sua battaglia. Nel frattempo qualcosa da parte dell'accusa comincia a scricchiolare. Intanto quel cognome e quel numero sulla rubrica telefonica. Il cognome che sembrava Tortora, forse è Tortona e quel numero non è in nessun modo collegato al famoso presentatore. E poi le testimonianze dei camorristi sembrano sempre più deboli, confuse. Lentamente si capisce meglio la situazione. I capi della camorra speravano di ottenere pene più brevi e speravano anche di togliere l'attenzione dalle proprie storie accusando un uomo molto famoso. Si erano messi d'accordo in tanti per rendere la storia più credibile. Ma alla fine tutta questa costruzione crolla come un castello di carte. Al processo di appello, il 15 settembre del 1986, Enzo Tortora viene dichiarato innocente e quindi assolto. Così il 20 febbraio del 1987 può tornare a fare quello che ama di più. Si mette di fronte alla telecamera e inizia la puntata del suo Portobello. Allora, dove eravamo rimasti? Un anno e mezzo dopo, a soli 59 anni, Enzo Tortora muore nella sua casa di Milano. È malato da tempo di un tumore ai polmoni e chissà che l'ansia, lo stress e la pressione degli anni di processo non gli abbiano accorciato la vita ancora di più. Oggi il caso Tortora viene studiato come esempio di mala giustizia. I giudici, forse per incompetenza o forse per arroganza, avevano preso per oro colato le dichiarazioni di alcuni criminali veri. E quando quelle dichiarazioni sembravano senza senso o troppo strane, i giudici non avevano saputo o non avevano voluto ammettere l'errore. E così un cittadino completamente innocente aveva passato nove mesi in carcere e quattro anni in mezzo ad avvocati e tribunali per dimostrare la sua totale innocenza. Da quella brutta storia, se non altro, l'attenzione e la sensibilità su questi temi sono aumentate, almeno un po'. Molte persone si chiedono, ma ha senso il carcere preventivo? E quante persone, probabilmente innocenti, ci sono in prigione per errore che hanno avuto meno fortuna, meno soldi e meno visibilità di Enzo Tortora? Oggi ci sono molte strade, piazze e istituzioni che portano il suo nome, un modo per chiedergli scusa e per riflettere sul modo in cui funziona, o forse non funziona, la giustizia italiana. I giudici che hanno accusato Enzo Tortora senza prove non hanno mai pagato per i loro errori e qualcuno, forse, non si è mai nemmeno pentito. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!